ciao io sono chiara e benvenuti sul mio canale oggi realizzeremo questo caldissimo maglione con il nuovissimo filato cosmo un misto di microfibra e lana vergine merino quindi un maglione molto morbido e molto caldo per questo progetto utilizzeremo appunto cosmo in queste bellissime sfumature sul rosso molto natalizio trovate quantità e link sotto il video nell'info box e lavoreremo il progetto con uncetto numero 7 vado a realizzare due pannelli e parto dal collo avete visto dalle immagini questo collo con il punto puff ma prima di pensare al punto puff avviamo 69 catenelle fatte le 69 catenelle adesso sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto lavoriamo una maglia bassa e proseguiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella quindi alla fine di questo giro avremo 68 maglie basse a questo punto lavoro 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e naturalmente giro il lavoro e adesso devo lavorare in questa maniera salto la maglia successiva dove farò poi il puff e vado a lavorare in quella dopo una maglia alta è fatta la mia maglia alta sulla maglia che ho saltato vado a fare il punto puff vi ricordo la lezione dedicata se non avete mai lavorato il punto puff vi lascio il link sotto il video nell'info box ma la ripetiamo insieme come funziona il punto puff sono delle gettate cioè significa mettere il filo sull'uncinetto e puntare ed entrare nel punto tot volte allora in questo caso quindi io vado a entrare nel punto che ho saltato quindi dietro la maglia alta che ho fatto adesso aggancio il filo vedete quindi filo sull'uncinetto e lo porto su in modo morbido di nuovo ripeto questa operazione quindi filo sull'uncinetto entro aggancio il filo e lo porto su e questa operazione la devo ripetere per cinque volte che nel mio caso sono sufficienti anche lavorando con un cinetto abbastanza grande però potete farlo anche più grosso entrando tipo sette volte o più piccolo entrando per esempio tre una volta che ho ripetuto questa operazione per cinque volte mi trovo una serie di asoline sull'uncinetto filo sull'uncinetto le vado a chiudere tutte insieme e vado ad ancorare il tutto facendo anche una catenella a questo punto devo andare a saltare la maglia successiva e lavoro in quella dopo una maglia alta quindi vado proprio ad alternare quest'operazione quindi salto una maglia maglia alta adesso torno indietro sulla maglia saltata e vado a fare un altro puff da 5 gettate quindi entro una volta filo sull'uncinetto entro una seconda volta cercate di rimanere morbide filo sull'uncinetto entro una terza filo sull'uncinetto entro nella quarta e poi la quinta e a questo punto filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme mi rendo conto che si vede poco però ecco avete la lezione dedicata se non avete mai visto il punto puff dobbiamo proseguire in questa maniera quindi salto la maglia dopo entro in quella successiva e faccio una maglia alta e poi torno indietro per fare il mio punto puff sto facendo di fatto un punto puff a zig zag e su questo abbiamo fatto anche diversi progettini con questo punto quindi vi lascio anche quei progettini sotto al video nell'info box filo sull'uncinetto chiudo e vado ad ancorare con una catenella e di nuovo salto la maglia successiva entro in quella dopo lavoro una maglia alta poi torno indietro e faccio il puff e continuo così ovviamente per tutta la riga arrivati alla fine dovete trovarvi con una sola maglia e lì dentro facciamo una maglia alta quindi iniziamo e finiamo con una maglia alta abbiamo iniziato appunto con le 3 catenelle che sono corrispondono alla prima maglia alta e appunto terminiamo con un'altra maglia alta a questo punto 33 punti puff e adesso vado a fare un altro giro e dovrò fare un totale di 4 allora per prima cosa sempre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e giro il lavoro a questo punto devo andare a lavorare una maglia alta sopra la maglia alta del giro precedente che è un po nascosta sotto il puff quindi maglia alta su maglia alta invece nello spazio vedete in questo spazio qui tra le 3 catenelle il punto puff vado a lavorare il mio primo punto puff sempre con 5 gettate e poi ricordatevi quando appunto chiudo di ancorare con una catenella quindi di nuovo maglia alta su maglia alta del giro precedente eccola qui e invece nello spazio tra i due puff andiamo a lavorare un altro punto puff quindi è semplicissimo filo sull'uncinetto chiudo tutto e vado ad ancorare con una catenella di nuovo maglia alta su maglia alta torno indietro e nello spazio tra i puff vedete questo spazio qui proprio direttamente nello spazio vado a lavorare il mio punto puff e proseguo così ovviamente per tutta la riga arrivati alla fine completo il mio ultimo puff e vado a poi chiudere il mio giro lavorando una maglia alta qui nella terza catenella a questo punto andiamo a ripetere quest'ultimo giro per altri due giri quindi facciamo questo bordo del collo diciamo così di quattro giri di punti puff quindi sempre tre catenelle la mia prima maglia alta giro il lavoro una maglia alta sopra la maglia alta del giro precedente è un punto puff e nello spazio tra il questo nel primo al punto puff e le 3 catenelle e poi tra i punto staff ecco qua ho fatto i miei quattro giri con il punto puff a zig zag e adesso vado a lavorare tutto un giro di maglie alte quindi per prima cosa sempre sostituisco la prima con 3 catenelle e poi giro il lavoro a questo punto lavoro una maglia alta nello spazio appunto tra i puff e una maglia alta nella maglia alta del giro precedente quindi sopra la maglia alta del giro precedente quindi lavorando una nello spazio e una sopra la maglia alta devo ritornare ad avere le maglie iniziali quindi terminerò con un totale di 68 maglie alte quindi mi raccomando andiamo a lavorare nello spazio qui tre puff e una maglia alta e una maglia alta qui vedete nella maglia alta del giro precedente che si allargata un po il puff la vedete comunque dovete avere appunto le maglie iniziali e quindi nel nostro caso 68 ovviamente termino la mia riga lavorando l'ultima maglia alta sulla terza catenella a questo punto vado a fare dei semplici giri di maglia alta però prendendo la solina esterna ora vi faccio vedere nel dettaglio per prima cosa ovviamente tre catenelle la nostra prima maglia alta giriamo il lavoro e adesso vado a lavorare vedete in questa sola solina esterna qui quindi in costa dietro come si dice e farò tutti i giri così di maglie alte quindi in maglia su maglia quindi manteniamo sempre il numero in questo caso di 68 maglie alte quindi dobbiamo continuare a lavorare questi giri di maglie alte prendendo solo la solina esterna fino ad avere un totale di 45 giri o fino ad arrivare ad un'altezza di circa 58 centimetri ecco qua vedete il mio primo pannello fatto e ne dovete fare un altro identico una volta avete fatto un altro identico ovviamente lo sovrapponiamo andiamo a prendere le misure per fare le cuciture e poi faremo chiaramente le maniche a questo punto prendiamo le misure allora contate sette punti puff che sono pari a circa 13 cm da un lato e ovviamente dall'altro identico io userò delle clip per fermare sarà questa la parte da cucire quindi dalla spalla verso il collo 13 puff perché io voglio un collo abbastanza ampio altrimenti cucite ovviamente un pochino di più per quanto riguarda il sottobraccio invece dobbiamo lasciare aperto quindi non cucito circa 21 cm che è pari praticamente ai quattro giri di puff più dovete contare altri 11 anzi scusate 12 giri quindi contate 12 giri di maglie alte più appunto il diciamo il bordo di punti puff e questo corrisponde a circa 21 centimetri quindi ovviamente da una parte e dall'altra a questo punto cuciamo naturalmente io uso questo ago fantastico il quello più grande perché un set da tre aghi e vado a cucire tutte le parti e poi andremo ovviamente realizzare le maniche ecco qua ho cucito tutto adesso ovviamente giro sul dritto perché sul dritto andremo a fare le mani che mi posiziono sotto al sottobraccio e vado a fare tutto un giro di maglie alte il primo chiaramente lo facciamo maniera normale quindi faccio solo una catenella che non conto come punto e subito la mia maglia alta se riuscite a lavorare la codina meglio altrimenti la metteremo via dopo e andiamo quindi a lavorare una maglia alta ovviamente tutto intorno e ovviamente chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia alta lavorata da questo momento in poi andrò a lavorare e prendendo solo la solina esterna così come ho fatto con il corpo della mia maglione però la prima maglia alta come state vedendo la faccio diciamo normalmente dopodiché vi consiglio di mettere un marker e andiamo a lavorare tutto intorno le maglie alte ripeto prendendo solo la solina esterna come potete vedere l'effetto che si creerà esattamente quello dell'appunto del corpo del maglione quindi continuate a fare giri in questa maniera sempre la solina esterna chiudendo con una maglia bassissima lì dove abbiamo messo il marker sempre appunto con la solina dietro per un totale di 27 giri ecco qua ho fatto 27 giri ho 45 maglie alte tutto intorno e adesso vado a fare delle diminuzioni che significa vado a lavorare sempre le mie maglie alte sempre in costina dietro però vado anche a lavorare queste 5 diminuzioni sparse quindi non dovete seguire una sequenza ma dovete a un certo punto ogni tanto farne un totale di 5 ovviamente vanno fatte diminuzioni con le maglie alte quindi che significa? significa filo sull'uncinetto entro nel punto chiudo solo le prime due esoline filo sull'uncinetto entro nel punto successivo chiudo prima le due esoline e poi le ultime 3 e questa è la nostra diminuzione ne dobbiamo fare quindi ripeto un totale di 5 quindi altre 4 in questo caso sparse significa proprio dove volete e poi ripeto un totale di 5 e poi ripeto un totale di 5 adesso ho 40 maglie alte vado a ripetere la stessa cosa una catenella la prima maglia la faccio sempre diciamo normale e vado a lavorare tutto intorno maglie alte più 4 diminuzioni sparse quindi non più 5 ma questa volta 4 quindi alla fine di questo giro avrò 36 maglie alte a questo punto di nuovo ultimo giro di diminuzioni questa volta faccio 3 diminuzioni sparse quindi sempre le mie maglie alte ricordatevi di lavorare come state vedendo in costina dietro quindi nella solina esterna e ogni tanto dove volete fate un totale di 3 diminuzioni quindi a questo punto 33 maglie devono essere un numero dispari perché ho terminato i giri con le maglie alte e vado semplicemente ovviamente a chiudere con una maglia bassissima così come ho fatto finora ma vado a creare il polsino che deve richiamare un po il bordino con il punto puff dell'inizio quindi per prima cosa faccio una catenella che non conto come punto una maglia alta dopodiché vado metto un marker ve lo consiglio qui in questa fase ancora di più perché così vedete bene dove chiudere dopodiché salto la maglia successiva entrò in quella dopo e lavoro una maglia alta torno indietro e nella maglia saltata faccio il mio punto puff esattamente come abbiamo fatto il collo entro sempre cinque volte e vado ad ancorare poi con una catenella di nuovo salto la maglia successiva entrò in quella dopo lavoro una maglia alta torno indietro e lavoro il mio puff nella maglia appena saltata e proseguo così per tutto il giro ecco qua tolgo ovviamente il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia alta lavorata adesso dovete una catenella una maglia alta ma prima giriamo il lavoro dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta sopra la maglia alta del giro precedente quella che si trova un pochino sotto al puff e invece nello spazio qui tra le 3 catenelle e il primo puff andiamo a fare un punto puff a questo punto di nuovo maglia alta su maglia alta del giro precedente torno indietro e nello spazio tra i due puff qui dentro vado a lavorare un altro punto puff ovviamente proseguo così per tutto il giro a questo punto puff ovviamente dovete lavorare nella stessa identica maniera anche l'altra manica una volta finito tagliamo il filo ancoriamo con un nodino di sicurezza andiamo a sistemare le nostre cotine ed ecco il nostro cosmo pool terminato mi piacciono molto queste maniche che richiamano appunto il collo poi potete decidere voi anche quanti giri fare insomma avete capito un po il il senso il concetto e quindi poi sarà facilmente adattabile spero quindi che questo video vi sia piaciuto anzi fatemelo sapere nei commenti io come al solito vi lascio allen card sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video ciao